Sette varchi d'accesso che saranno attivi dalle 20 a luna di notte e telecamere dislocate lungo tutto il perimetro del centro storico. Stasera parte la pedonalizzazione del cuore antico di Avellino. Per i locali la possibilità di incrementare gli incassi, qualche disagio in più invece per i residenti. Sicuramente ci saranno dei disagi, spero che ci organizzeremo per bene al più presto, però è una cosa che a me piace tanto. Un centro storico blindato, a livello di sicurezza siamo sicuramente a cavallo, spero che funzioni certo. L'hanno fatto nuova, l'hanno fatto, si fanno fuggire tutta per lì. Perlomeno camminano meno macchine, abbiamo più aria pulita. Non si abita qua, però questa qua è proprio una cosa che non andava fatta. Posizionare qui la telecamera. Esatto, esatto. L'Ovesco ha fatto di tutto per sistemare questa qua, la piazza è una cosa di questa. E dai banchi dell'opposizione Dino Preziosi non manca di sottolineare come ci sia un concreto rischio caos per la mobilità. Si è sbagliato tutto a mondo e anche questa amministrazione continua a far finta di niente perché la cosa più intelligente è quella di fare parcheggi sotto piazza Libertà e che non sono stati fatti. Chiaro che la mobilità ne risentirà in un poco perché ci saranno dei problemi, soprattutto a livello di viabilità urbana e che questo tendenzialmente porterà anche a un aumento di quello che è l'inquinamento sia acustico che da PM10.